segnato appuntato l'errore che ho fatto se poi vogliamo toglierci i sassi e le scarpe e che l'ho divulgata a una sola persona quella che sarebbe dovuta venire con me che poi non l'ha fatta ecco quello è stato uno dei grossi errori che sicuramente non farò mai più il primo innanzitutto un grazie speciale a tutti quanti voi considerate che questa gomma qui e faremo altri 1200 chilometri trovate in questo video le risposte e ancora grazie eccoci qua si parte si parte subito si parte a bomba diciamo ragazzi buonasera bentornati o ben nudi sul canale questo video per più motivi il primo innanzitutto un grazie speciale a tutti quanti voi che mi avete seguito in questa avventura per capo nord e grazie a tutti i commenti che sono arrivati su questo video le aspettative su questo video erano alte per quel che mi riguarda video dura sì due ore 10 due ore 11 per l'esattezza ma devo dire che almeno secondo la mia opinione scorre abbastanza velocemente ho cercato di riassumere i 20 giorni in quelle due ore e ho cercato di trasmettervi le emozioni che questo viaggio ha suscitato in me dalle visual e dai commenti credo di esserci riuscito un ulteriore grazie perché chi mi segue ha la stessa sensibilità mia quindi viaggiamo sulla stessa onda e questo non può che rendermi particolarmente orgoglioso fiero felice di questo risultato un ulteriore motivo che mi ha portato a fare questo video perché tanti di voi mi hanno fatto tante domande relativamente all'equipaggiamento di capo nord che gomme hai usato che completo hai usato ti sei portato un booster le tracce gpx ce le giri ecco queste sono solo alcune delle domande che mi avete fatte sono alcuni degli argomenti che voglio toccare con voi visto e considerato che gli argomenti sono tanti mi sono letteralmente segnato appuntato tutto o maggior la maggior parte delle cose che mi avete chiesto e adesso andiamo ad elencarle uno ad uno innanzitutto partirei dall'abbigliamento perché è l'argomento principe l'argomento principale dei vostri dubbi che abbigliamento hai utilizzato allora parlando dell'abbigliamento ovviamente partirei dal casco il casco è una gv tour modular e questo qui ho fatto una recensione sul canale quindi la troverete lì non sono qui per farvi la recensione ma semplicemente per elencarvi o quantomeno confermarvi i prodotti che ho utilizzato utilizzato una gv tour modular con il quale chi mi segue lo sa utilizzo prettamente questo prodotto e mi trovo decisamente bene confortevole comodo leggero assolutamente un ottimo compagno di viaggio dopo il casco passiamo a quello che secondo me è stato il non plus ultra degli accessori che ho portato con me ovvero dainese ecla un completo laminato altamente performante da quando guido un mezzo a due ruote è senza dubbio sicuramente il completo più performante che io abbia mai avuto e vi ripeto un completo laminato ma è anche estremamente fresco e tutti i particolari dettagli di quella giacca sono decisamente perfetti se proprio devo fare un appunto al completo a dainese devo dire che la maglietta tour shell che all'interno secondo me penalizza un po questo completo avrei preferito un 100 grammi nella parte superiore come c'è il 100 grammi nella parte bassa quindi nei pantaloni il pantalone lo trovate con la parte laminata la scocca esterna la parte esterna è il laminato altamente performante contro l'acqua non passerà mai acqua e all'interno per i periodi freddi c'è un 100 grammi nella parte superiore invece dainese ha scelto di non utilizzare i 100 grammi ma di mettere una maglia tour shell beh questa la trovo un po leggera quindi per il prossimo viaggio che farò sicuramente sostituirò il tour shell che magari mi utilizzerò quando arrivo a destinazione perché è un materiale estremamente comodo confortevole leggero e tiene caldo però alla parte interna del completo come dicevo userò un 100 grammi 100 grammi che praticamente ho sul completo l'adac lo passerò sul completo ecla in questo modo il completo ecla per quel che mi riguarda è un completo semplicemente perfetto i dettagli della giacca non sono messi a caso ha delle ottime aperture sugli avambracci ottime aperture sulla parte frontale e degli estrattori posteriori quello che ho apprezzato e mi ha colpito molto e il collo ha una copertura veramente veramente importante e quando è chiuso dona veramente molto comfort estremamente confortevole grazie a un magnete è possibile aprire e chiudere il collo e bloccarlo con una mano anche quando si è la guida per quel che mi riguarda completo ecla ha superato il test 10 più continuando con l'abbigliamento i guanti i guanti ho usato tempest di dry di dainese che mi hanno garantito protezione sia al freddo che all'acqua scendendo gli stivali per quel che riguarda gli stivali siccome sono un eterno romantico ho preferito tornare a capo nord con lo stesso stivale con cui ero andato per la prima volta nel 2017 adesso siamo nel 2024 tcx infiniti gorex lo stivale a distanza di 7 anni è assolutamente perfetto nuovo nonostante i suoi ben sette anni di vita all'attivo oltre 50 mila chilometri ha resistito alla grande all'acqua quindi ottimo prodotto nonostante la vecchiaia per concludere il discorso abbigliamento ho usato ovviamente l'immancabile moto airbag v4 dal quale non mi separerò mai e questi jeans che della pmg questo è un single layer però questo jeans ahimè l'ho usato soltanto quando non ero in sella chi mi ha seguito ha potuto vedere che l'aria l'ho beccata apertamente fresca tranne un giorno che dove c'era 28 29 gradi spiegabilmente si è arrivati a quelle temperature folli ed anche perché quando non era fresco il tempo era estremamente variabile indossare un jeans in un viaggio a capo nord vuol dire fermarsi più volte al giorno per indossare un antipioggia visto e considerato che avevo un completo ecla che mi garantiva l'impermeabilità totale ho voluto evitare di fare queste soste e perdere tempo inutilmente avrei sperato di utilizzarli mentre salivo fino in danimarca e mentre scendevo dalla danimarca ma ahimè il meteo non è stato sempre clemente quindi li ho portati con me ma li ho usati nel tempo libero ad esempio sulla salita del prextole tanti di voi mi hanno chiesto come mi sono trovato con le borse della long rider come vedete ragazzi della long rider io quasi tutto o le moto bags o l'overlander o le micro bag o le mini bag o la borsa serbatoio praticamente ho tutto premesso che l'acqua non è entrata da nessuna borsa e considerate che ho le moto bags le ho usate sempre e solo senza le loro borse interne le moto bags chi ha seguito la recensione sul canale l'ha visto hanno una borsa interna stagna beh quella borsa interna stagna io non l'ho mai utilizzata fermo prestando che tutti i prodotti long rider sono dieci più e chi li ha sa di cosa stiamo parlando quello che sicuramente il prodotto che più mi sta a cuore che più mi ha rapito il cuore che più mi ha fatto innamorare di questa azienda è sicuramente l'overlander voi pensate che una borsa da 48 litri e in questo 48 litri sono riuscito a farci stare più roba di quella che mettevo nel 58 litri della gb quello che fa fare il salto di qualità a questi prodotti della non rider è sicuramente la semi rigidità è il fatto che man mano che voi chiudete le borse potete far uscire l'aria quindi la roba la mettete sotto vuoto e c'entra molto più roba di quello che voi pensate nell'overlander per farvi un esempio ci avevo messo dentro il saccappello il materassino i risotti avevo portato oltre 20 risotti il fornellino da campeggio la gavetta per due persone una ciabatta multipresa due ricariche di gas ci stava dentro anche della cartigienica insomma ci stava dentro un mare un mare un mare di roba veramente un prodotto pazzesco come vi ripeto tutti i prodotti della non rider dalle moto bags alla borsa serbatoio e tutto quello che vedete qui sul mio mezzo lo specifico malo dopo è scontato oltre a queste borse della non rider avete visto nel video sia di caponord ma sia nella recensione che ho utilizzato anche una loro tenda la moto tent vi ribadisco quello che penso è sì un prodotto sicuramente più pesante di altre tende però ha anche molto comfort in più insomma se vi piace vestirvi in piedi avere un ampio spazio davanti a voi dove potervi riparare nei giorni di brutta pioggia o un posto semplicemente dove riporre altri abiti altri accessori altre borse beh quello è un prodotto sicuramente valido un'altra cosa che mi avete chiesto in tanti è che gomme hai montato ragazzi ho montato eccole qua le road smart 4 è vero si sono un po appiattite nella parte centrale ed è inevitabile quando accenno alle curve sento un po di frequenza ed è inevitabile perché qui si è formato ovviamente uno scalino tra la parte centrale e le spalle ma come potete vedere di gomma ce n'è ben oltre quello che potete immaginare considerate che io questa gomma qui l'ho montata adesso vi mostro anche il davanti questa gomma qui l'ho montata circa un paio di weekend prima di partire per caponord guardate che di gomma ce n'è ancora per diversi chilometri vi dicevo che l'ho montata un paio di weekend prima di partire per caponord quindi partivo già con un po di cam sulle spalle quindi un paio di weekend abbiamo fatti per andare a caponord ci abbiamo fatto bene 10.800 chilometri da casa a caponord dopo caponord sono stato un weekend in toscana e ho percorso altri 850 chilometri un altro weekend ho fatto il giro sullo stelvio allungandomi per la svizzera e ho fatto altri 600 chilometri questo weekend tornerò in abruzzo con cinza e faremo altri 1200 chilometri in realtà poi la gomma ne avrebbe ancora per un po particolarmente sul dritto non so per quanto ancora ma la realtà è che tra dieci giorni partiamo per il prossimo viaggio di agosto che ci terrà via per tre settimane e più di 8000 chilometri quindi queste gomme le smonterò e vi faccio una piccola spoilerata monteremo un tassello piccolino quindi una gomma 50 da strada e 50 da off non vi voglio anticipare altro perché in realtà i più attenti hanno notato che è un piccolo indizio ve l'ho dato quando feci l'annuncio del viaggio a caponord un altro piccolo aiuto ve l'ho dato quando sono sceso dal traghetto a christian sand e un altro piccolo aiuto ve l'ho dato adesso accennandovi al prodotto che monterò come gomma quindi è molto facile arrivare a dove arriveremo ma la cosa più figa è che quando voi vedrete questo video che conto di metterlo online il 10 di agosto io e cinza saremo partiti la mattina del 10 per il nostro viaggio di agosto quindi road smart 4 mi sono trovato decisamente divinamente non solo per i consumi del pneumatico ma anche per il grip in qualsiasi condizione dal freddo al caldo quelle giornate calde ma soprattutto dall'asciutto al bagnato sul bagnato queste gomme sono letteralmente formidabili frequenza pressoché 0 0 fin quando non si hanno dei consumi anomali come questo va al centro ha una forte usura perché la maggior parte che non sono stati fatti sul dritto e sulle spalle invece ce n'è in abbondanza ecco in questi casi come si accende la curva sia a destra qua a sinistra la frequenza inizia inesorabilmente ma è tutto nella norma visti i chilometri che ha il prodotto relativamente alle domande che mi avete fatto sulla moto e quindi sull'equipaggiamento con cui ho affrontato questo viaggio due domande ricorrenti informazioni sul compressore e informazioni sul booster ho due booster ne ho portato uno da 30.000 che non ho mai usato fortunatamente per la moto ma l'ho usato prettamente per ricaricare magari degli accessori quando ero in tenda accessori tipo il computer o tipo il drone o tipo la lego pro booster che tra l'altro ho sempre qui con me ed eccolo qua io il booster ce l'ho sempre appresso anche quando non viaggio quindi il booster è uno di quegli accessori che a prescindere o meno dei viaggi porto sempre con il compressore l'ho usato invece una sola volta come avete visto nel video per portare a una temperatura più ottimale il pneumatico anteriore e posteriore visto che i distributori che avevo contato non avevano questo compressore a portata di mano del compressore anche lì ho fatto una recensione uso quelli della lexin esattamente o sia smart pump 4 che smart pump 5 ho portato il pump 5 un aiuto veramente importante sono arrivati anche da questi faretti della serco moto perché quando vi abituate tutto il giorno ad avere una luce forte quando entrerete in particolare gallerie e non ce ne sono 1 e 2 ci saranno diverse dove l'illuminazione è veramente bassa a voi un prodotto come questo po che sia di serco moto di un'altra marca non volentare nel merito non è vendere il prodotto avere dei faretti supplementari in alcune circostanze fa sicuramente la differenza un'altra cosa che magari vi può tornare utile che mi avete chiesto che chiavi ti porti appresso ecco io un'altra cosa che uso che porto appresso è questo successore sempre della long rider che dove praticamente posso mettere più chiavi quindi ovviamente un cacciavite delle forbici delle 10 qui porto sia delle chiavi delle chiavi esagonali di un po di tipi diversi delle chiavi torx eccole qui delle fascette e ulteriori chiavi che magari possono servire alla bisogno ovviamente ho del nostro americano del nastro isolante e l'immancabile kit contro riforatura allora qui abbiamo detto tutto quanto passiamo ai file gpx ragazzi tanti di voi mi chiedete dei file gpx i file gpx mentre i quelli dell'uscita giornaliere li condivido quelli dei viaggi no è usato una mia scelta ci sono agenzie che voi pagate abbondantemente che per portarvi a caponord si prendono qualcosa come 2500 euro a testa escluso ovviamente di benzina escluso dei pranzi alcuni comprendono qualche cena non tutte e quindi al 2005 ci dovete aggiungere un bel po di euro per andare e tornare a caponord io sul mio canale ho fatto la scelta di non chiedere mai soldi a nessuno dietro uno studio di un viaggio che sia caponord che sia il marocco la tunisia che sia i paesi balci che sia ovunque almeno per me che sono un ossessionato malato della pianificazione ci sono settimane se non mesi di studio del perché fare una strada come intraprenderla cosa vedere dove fermarsi perché una tappa farla finire in un punto piuttosto che in un altro e questo mi porta via tanto tempo è una mia scelta ci mancherebbe è una mia scelta sia lo studio della della traccia ed è una mia scelta anche farlo in questa maniera perché il viaggio così lo vivo tre volte quando lo studio quando lo faccio e poi quando lo rivedrò per il video non divulgo le mie tracce perché io lavoro per quel viaggio e non voglio regalare a nessuno quello che faccio io soprattutto perché un'unica volta che ho fatto una roba del genere mi sono rivisto le mie tracce gpx tra virgolette passatemi il termine vendute su internet ecco siccome il lavoro è mio siccome ci lavoro io le tracce non le condivido con altri condivido il viaggio vi dico le state che percorro più astuti si segnano quello che dico e lo fanno se hanno piacere di farlo se gli interessa altri si limitano a vedere il video ma che io divulghi una traccia di un viaggio come questo anche no l'errore che ho fatto se poi vogliamo toglierci i sassi e le scarpe e che l'ho divulgata a una sola persona quella che sarebbe dovuta venire con me che poi non l'ha fatta ecco quello è stato uno dei grossi errori che sicuramente non farò mai più perché vi dico che hanno un costo tra cgp poco fa vi ho detto ci sono delle agenzie che si fanno pagare abbondantemente per portarvi a capolori adesso vi dico perché ho usato il termine abbondantemente abbondantemente perché ha una domanda che voi fate quanto è speso in questo viaggio una domanda che non ha fatto più di una persona allora io vi dico una cosa facendolo come avete visto nel video tutto in autonomia facendo tanto campeggio wild dormendo solo quattro notti in campeggi a pagamento due in germania una salire una scendere uno sotto il prekstolen in norvegia e un altro l'ho fatto a scarsvag la notte prima di andare a capoloro semplicemente per la questione di comodità se calcoliamo questi quattro campeggi la spesa totale del mio viaggio a capo nord udite udite è di circa 1150 euro se considerate che di questi 1150 euro ne ho spesi circa 800 per la sola benzina capite che chi vi porta a capo nord non lo fa gratis gli altri soldi adesso ve lo dico 800 euro di benzina 120 euro di cibo tra quello che mi ero portato da casa è quello che man mano che passano i giorni ho ricomprato lungo la strada biscotti il tonno fagioli insomma quello che mi occorreva man mano me lo ricompravo lungo la strada 150 euro li ho spesi tra i ponti e traghetti traghetti per la maggior parte in norvegia sia quelli che facevano mentre scendevo lungo la costa e sia quello più importante che è stato il costo del cal traghetto da christiansand a irdschels e anche i ponti quello più importante è quello del loro esunto che collega la danimarca alla svezia che è quello che è costato un po' di più ma ce n'è anche un altro prima sempre in danimarca che non ha un costo poco rilevante dulcis in fondo i campeggi 75 euro a spagna e quattro campeggi quello speso 1145 euro per le esattezze è stato il costo di questo viaggio o escluso da questo costo ovviamente gli otto euro del magnete che ho comprato a caponare che quello ho comprato per un mio sfisso non siete obbligati a comprarlo quindi non l'ho messo in questo computo o tralasciato da questo computo ovviamente tutto l'attrezzatore da campeggio la tenda saccappello la sedia fornetto la camp la gavetta e tutto ciò che occorre per fare il campeggio insomma tutti accessori che se uno li ha i soldi non li spende se invece non li ha ovviamente da comprare ma poi non sarà un costo è limitato a questo viaggio magari si riutilizzerà in altre occasioni insomma ragazzi 1145 euro per un viaggio di circa 11.000 km 8 nazioni 18 giorni mi sembra estremamente estremamente poco l'ho fatto come volevo io non è detto che bisogna farli tutti in questa maniera ognuno li fa come dicevo nel video a modo suo come preferisce e come meglio crede voi mi avete fatto delle domande io mi sono limitato a rispondere a quelle che erano i vostri requisiti mi auguro che ognuno di voi abbia trovato in questo video le risposte alle proprie domande ai propri dubbi alle proprie perplessità concludo il video dicendo che sicuramente questa volta per qualche settimana non vedrete video perché questo andrà in onda il 10 di agosto e noi rientreremo dal viaggio che farò con cinzia tra qualche giorno ai primi di settembre quindi sicuramente per qualche settimana non ci vedremo sarà un viaggio lungo impegnativo ma soprattutto bello emozionante spero di fare un video bello tanto questo di caponord per il prossimo viaggio perché veramente ci tengo tanto a trasmettere di quello che viviamo durante le nostre giornate in moto ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fin qui se l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso iscrivetevi al canale è gratis a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione e ancora grazie ciao al prossimo video